ciao a tutti amici di vanilla oggi parleremo dell'isola dei morti di berklin l'enigmatico quadro che stregò adolf hitler in una foto datata 12 novembre del 1940 vediamo tre personaggi che discutono di spalle rispetto all'obiettivo con i capelli lucidi di brillantina c'è il ministro degli esteri tedesco joachim von ribbentrop alla sua sinistra con gli occhiali tondi c'è il presidente dei commissari del popolo russo via ceslaf molotov a destra inconfondibile il führer del terzo reich adolf hitler i tre sono nello studio della cancelleria del reich il motivo dell'incontro è la rettifica e la messa a punto del patto molotov ribbentrop il trattato di non aggressione fra il terzo reich e l'unione delle repubbliche socialiste sovietiche firmato nell'agosto del 1939 si tratta di un patto tra diavoli il cui scopo per entrambe le parti in causa è quello di prendere tempo e allargare il proprio potere territoriale prima della svolta finale è un gioco d'azzardo un equilibrio apparente fra due totalitarismi in attesa della prima mossa utile allo scacco matto nella foto i tre conversano tra loro dalle loro parole dipende il destino di milioni di persone alle loro spalle attaccato alla parete sullo sfondo vediamo un quadro si tratta dell'isola dei morti del pittore arnold buecklin il quadro preferito di hitler dal 1880 al 1886 l'artista realizzò cinque versioni del dipinto che inizialmente aveva intitolato di greberinsel l'isola dei sepolcri il titolo di toteninsel l'isola dei morti venne attribuito all'opera dal mercante d'arte fritz gurlitt nel 1883 il quadro per come lo conosciamo fu commissionato da una nomidonna tedesca marie berna che aveva chiesto a buecklin di realizzare un dipinto per commemorare il defunto marito georg von berna morto di difterite 15 anni prima marie berna rimase molto colpita da un'opera che il pittore esponeva nel suo studio a firenze si trattava della prima versione commissionata dal mecenate alexander gunter la vedova berna disse di volere un quadro per sognare e quel dipinto effettivamente nella sua statica pace aveva qualcosa di onirico chiese però che venisse fatta una modifica ovvero che venisse aggiunta una bara traghettata verso l'isola berklin aveva avuto a che fare con la morte la perdita di sei dei suoi dodici figli lo avvicinava più di chiunque altro a quella pace onirica che la nobile donna cercava nel quadro il risultato fu una delle opere più enigmatiche mai dipinte il cui intento era una meditazione sull'aldilà un'isola rocciosa in mezzo ad acque immobili solcate da una piccola imbarcazione che trasporta una bara e una figura in piedi avvolta in un sudario ipnosi silenzio sussurro era il capolavoro assoluto del simbolismo tedesco l'artista decise di inserire la bara anche nel primo quadro quello che aveva colpito marì berna l'artista scrisse in una lettera la sua committente mercoledì scorso ho terminato l'isola dei morti lei vi si immergerà sognando in questo oscuro mondo di ombre fino a credere di aver sentito il soffio lieve che increspa la superficie del mare fino a voler distruggere il solenne silenzio con una parola detta ad alta voce il quadro famoso per aver provocato in più di uno spettatore la sindrome di stendhal ebbe subito un ampio successo e il pittore realizzò le successive versioni su commissioni di privati e musei in molti furono affascinati dal suo potere ipnotico gabriele d'annunzio dopo averlo visto ne volle una riproduzione nella sua camera e nel giardino della sua villa sul lago di garda piantò cipressi sull'esempio di quelli che popolano l'isola misteriosa sigmund freud che pare possedesse più copie del dipinto ci vide una proiezione figurativa dei desideri latenti inconsci come i sogni il quadro era in grado di evocare stati d'animo diversi a seconda della visione della vita e della morte dello spettatore per la sua iconografia che affonda le radici nella tradizione antica greca e romana sulla visione dell'aldilà e per i suoi rimandi esoterici legate alle teorie dell'occultista svedenborg sulle connessioni tra vita reale e sogno l'opera incarnò nella mente dei nazionalisti tedeschi il simbolo dell'arte germanica la terza versione del dipinto realizzata nel 1883 per il mercante gerlitt che mostra sulla parete rocciosa a destra la firma dell'autore a b finì all'asta nel 1936 a fare la sua offerta comparve tra gli sguardi sbigottiti dei presenti il führer tedesco in abiti civili che era ormai ossessionato dall'opera e voleva possederla a tutti i costi si tratta del quadro che vediamo nella foto con molotov e ribbentrop sul finire del mese di aprile del 1945 ormai per la germania tutto è perduto berlino brucia e la notte tra il 29 e il 30 aprile hitler sposa la sua compagna eva braun all'interno del führer bunker alle 15 e 30 del 30 aprile del 1945 hitler si spara nella stanza in cui custodiva il quadro a cui tanto teneva il 2 maggio i sovietici occupano la cancelleria scendono all'interno del bunker e si fermano davanti al dipinto è cupo misterioso i soldati decidono di prenderlo come bottino di guerra l'isola dei morti resta a mosca fino al 1979 quando viene acquistato e riportato a berlino oggi può essere ammirato in una sala espositiva alla alte nazional galerie